Aiutatemi lo strangolata! E questo è il contenuto della drammatica telefonata arrivata al 118 ieri sera verso la mezzanotte da parte di Joseph Martella, subito dopo aver commesso l'omicidio della compagna Daniela Marchi nel loro appartamento di via Eduardo De Filippo a Vasto Marina. L'uomo ha chiamato anche le forze dell'ordine e poi è salito al piano superiore, dove ha chiesto aiuto a due condomini. Quando i ragazzi sono arrivati nell'appartamento hanno trovato Daniela Marchi riversa a terra, ormai priva di vita, e il filo elettrico nero con il quale è stata strangolata accanto al corpo. A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari che hanno solo potuto constatare il decesso. Presumibilmente la donna è stata aggredita da dietro, da dietro le spalle, specialmente insomma dal solco che presentava l'altezza del collo, visto che è stato usato insomma un cavo elettrico di spessore rilevante che ha lasciato dei segni ben evidenti. Agli uomini della polizia Martella, in evidente stato confusionale, ha continuato a ripetere di non sapere come abbia fatto ad uccidere la compagna. Poi avrebbe tratteggiato una relazione amorosa burrascosa, parlando di litigi continui, e successivamente avrebbe anche raccontato di aver trovato l'arma del delitto, il filo elettrico, all'interno del cestino della spazzatura, dove lo aveva gettato dopo aver effettuato lavoro in casa. La polizia, dopo l'interrogatorio di inquestura di stanotte, nel quale Martella, assistito dal legale Massimiliano Baccalà, si è avvalso della facoltà di non rispondere, lo ha tratto in arresto con l'accusa di omicidio volontario. Noi non abbiamo riscontri di interventi in quel nucleo familiare. Informalmente l'uomo stesso ha detto che ultimamente erano frequenti litigi dovuti prevalentemente a motivi economici. Sì, in effetti le modalità insomma di intervento delle forze di soccorso, dovute appunto alla chiamata del Martella, fanno pensare a un reato di impeto, a un omicidio di impeto, a seguito del quale poi lo stesso Martella si è reso conto della gravità dei fatti che ha commesso.